È una telenovella che dura forse da parecchi anni, anzi forse una ventina di anni. Come ci si deve comportare con quest'arneo che ogni anno esce fuori con costi esagerati per i cittadini? Ci sono diverse possibilità, ma prima di dire come si deve comportare, bisognerebbe capire di fronte a che cosa ci troviamo. Perché se sappiamo come stanno le cose, dobbiamo essere noi a decidere, non devo essere io a dirlo. La situazione è questa, che Arneo chiede dei soldi, ha bisogno di 9 milioni di euro per il 2014. Di questi già alcuni li abbiamo pagati, non con gli avvisi bonari. La Regione, che siamo noi, ha dato 2 milioni e mezzo di euro, proprio per ridurle il contributo. Nonostante questo, comunque un contributo gravoso, perché sono stati inviati avvisi bonari, poi adesso avvisi notificati e raccomandati, per 6 milioni di euro. L'Arneo non ha fatto nulla, perché io, che sono un tecnico, sono andato in giro e ho visto che i canali non sono manutenuti. Si tratta di manutenzioni minime, sicuramente non paragonabili rispetto agli importi che loro richiedono. Di contro, Arneo ha dei costi esorbitanti, che sono corsi di personale. Ha soltanto un operaio e 46 dipendenti, che sono amministrativi tecnici. Quindi questa è una situazione che va affrontata, va sanata. Quindi va bene pagare se abbiamo un beneficio, però deve esserci una riforma, in effetti, dell'Arneo. E ciò che si paga deve avere un riscontro poi nella pratica, altrimenti rischiamo di pagare e, diciamo, assecondare un sistema che invece non funziona e non va bene. Secondo lei la politica ha un ruolo importante affinché si possa poi alla fine decidere che cosa fare? La politica ha un ruolo importante, perché se oggi ci troviamo forse in questa situazione, perché in questi dieci anni c'è stato il silenzio, era un tema un po' scottante, mettere le mani in tasche ai cittadini era qualcosa che non si poteva fare, non si doveva fare. Il tema va affrontato, cioè Arneo va riformata, deve dare dei servizi e se dobbiamo pagare, chi deve pagare? Perché non è detto che tutti debbano pagare, ma chi ha dei benefici deve pagare e deve pagare il giusto. E quindi questo è il compito oggi della politica. Però prima di chiederci soldi dovrebbe darci garanzie di questa riforma, anche perché, ricordiamo, ci è stato chiesto il 2014, poi ci sarà il 2015 e poi ci saranno gli altri anni. Parliamo sempre di Arneo, qual è la tutela per i consumatori? Parliamo di Arneo perché è un argomento di grossa attualità, la grossa partecipazione dei cittadini, ma anche delle imprese, del territorio, a tutte le iniziative che si stanno tenendo da parte nostra, ma anche da parte di altre associazioni, denota il fatto che è un tema molto sentito. Un tema molto sentito perché a fronte delle richieste del Consorzio non c'è evidenza degli interventi effettuati sul territorio, addirittura i cittadini sono costretti alle imprese a subire dei veri e propri danni alle proprie proprietà per gli interventi mai effettuati sul territorio. Ecco, da questo punto di vista abbiamo dato mandato ai nostri uffici legali, noi, ma come anche l'associazione di categoria, ad approfondire il tema onde evitare di mandare allo sbaraglio i cittadini in contenziosi giudiziari che potrebbero non portare a nulla. Dagli approfondimenti effettuati e dal stato della situazione che il territorio vive, riteniamo che ci sono i presupposti per contestare quanto richiesto dai consorsi e quindi si apre un'avvertenza che riteniamo possa portare effettivo beneficio o in termini di annullamento di quanto richiesto da parte del Consorzio o comunque nella riattivazione di servizi che sono effettivamente utili al territorio stesso. Come mai questa richiesta dopo anni di silenzio da parte del Consorzio? No, noi non stiamo sulla notizia e neanche vogliamo cavalcare le emotività del momento da parte dei cittadini. Sono ormai da diversi anni e non dimentichiamo gli ultimi contenziosi che risalgono a prima del 2009, che hanno visto numerosi contenziosi che hanno visto quindi l'ADOC in prima fila e in termini di ricorsi effettuati tra l'altro vinti, poi subentrata la legge di riforma. Dopo la legge di riforma anche in questi anni abbiamo avuto modo di denunciare nelle varie realtà comunali, non in tutte, lì dove si presentavano i problemi la carenza di interventi e addirittura i danni che i cittadini subivano. Quindi non stiamo sulla notizia ma è da diverso tempo che denunciamo lo stato delle cose.